Abbiamo ringraziato le autorità libiche per gli interventi di soccorso più di 2.500 nell'ultima settimana tranne un'incursione indesiderata di una ONG, questo è un altro punto di assoluto contatto dal punto di vista nostro e della Libia, bloccare il business dell'immigrazione clandestina significa bloccare l'intervento dannoso e pericoloso di queste navi straniere che al di là di ogni sicurezza sia dei marinai libici che degli stessi immigrati procedono nell'assoluta mancanza di rispetto di qualsivoglia regola internazionale e quindi oggi stesso tutti gli interruttori mi hanno ringraziato per la posizione ferma del governo italiano e ci hanno chiesto di proseguire in questa attività di blocco del traffico di esseri umani che vede in queste ONG soggetti assolutamente non so se consapevolmente o inconsapevolmente complici e protagonisti.